Gianmarco si è ritornato in piazza per manifestare contro la buona scuola, la riforma del governo Renzi. Com'è andata questa prima mobilitazione studentesca dell'anno? Allora, a livello numerico si poteva sicuramente fare di più. C'erano presenti 600-700 persone. I motivi della manifestazione a livello territoriale erano chiari e non centravano realmente con la buona scuola. Erano il progetto di comodato d'uso dei libri di testo che abbiamo inviato col comune. E che porteremo avanti. Un progetto sempre comunale sugli spazi sociali per convertire un bene mafioso in uno spazio gestito dagli studenti dove si faccia un'assemblea il pomeriggio, dibattiti, sale prova, cineforum. E poi chiedevamo alla provincia di un servizio migliore per quanto riguarda i trasporti. Ovviamente tutto questo si può comunque ricollegare al discorso della buona scuola dove vengono eliminati gli spazi di democrazia, dove non si parla di un sistema di welfare che permette agli studenti di emanciparsi e di non pesare realmente sulle famiglie. Il nostro obiettivo a lungo termine sarà quello di portare a scuola il reddito di formazione che sia per tutti e per tutte e che garantisca mensilmente la possibilità agli studenti di fare tutto quello che la scuola offre. Ovviamente il discorso della buona scuola rimane aperto, cercheremo di boicottarla dall'interno sia nelle mobilitazioni nelle piazze sia nelle mobilitazioni interne alle scuole.